Ma io non so se ho due giorni per rispondere, ho soltanto qualche battuta. Allora, posso darti del tuo diretta. Chiaramente tu hai riassunto bene i termini della questione. Noi abbiamo da molto tempo, dal 2008, denunciato che questo bipolarismo non avrebbe funzionato perché erano due quantità che si contrapponevano e non vi era un'omogeneità politica al loro interno che consentisse, come dire, di portare avanti i programmi elettorali. E questo lo si è visto a sinistra quando ha governato Prodi, lo si vede oggi a destra con Berlusconi che non è soltanto la rottura confini, quella che ha prodotto in qualche modo lo showdown in cui prima o dopo, nel giro di qualche ora, a porazzi di qualche settimana, noi arriveremo. Ma soprattutto le divisioni che ci sono tra il PDL e la Lega che hanno due concezioni sul piano economico diverse di dare le risposte al Paese. Il decreto sviluppo, ne abbiamo già avuto uno e noi avevamo già detto che non era sufficiente, era un pannicello caldo, ma adesso ne stanno facendo da tre settimane un altro e nonostante le cene di Arcore non trovano oggi una composizione all'interno della maggioranza, probabilmente perché hanno sensibilità diverse, interessi sociali diversi, la Lega non rappresenta un interesse di carattere nazionale ma territoriale e mentre il PDL rappresenta un interesse di carattere nazionale, anzi sbilanciato al Sud. Ed è chiaro che la composizione di questi interessi sociali ed economici non è facile per portare avanti una politica di sviluppo e quindi sono, come dire, impaludati nelle loro secche. Oggi abbiamo una questione che tu mi chiedevi, invece molto più pratica, qual è la soluzione tecnica che dovrebbe essere risolta per approvare il rendiconto. Allora, il rendiconto chiaramente si inserisce in questa dinamica l'approvazione del decreto sviluppo, cioè dare degli incentivi al sistema economico nel suo complesso, quantomeno razionalizzare la spesa e gli incentivi che attualmente ci sono, perché non tutti sono così produttivi, non tutti hanno quel valore aggiunto che serve per la competitività del sistema Italia. Per cui si tratta di rimodulare quelli che ci sono ed eventualmente favorirne altri. Però il discorso degli incentivi oggi si è ridotto al lumicino perché le risorse non ci sono. Oggi tutte le manovre finanziarie sono tendenti al taglio, quindi a diminuire, a ridurre e allora bisogna trovare altre formule come quelle per esempio che possono aiutare l'economia dell'apertura dei mercati. Oggi ci sono dei mercati che in qualche modo sono condizionati da posizioni dominanti di oligopolio o perché no in certi settori di monopolio e guarda caso queste posizioni dominanti si esplicano soprattutto in settori come quello energetico che condiziona poi il sistema produttivo nel suo complesso, anche quello privato. E allora si tratta di rimuovere queste condizioni di monopolio, queste condizioni diciamo di interdizione che vi è, di chiusura che vi è in questi mercati. Ma qua si vanno a toccare soprattutto nel settore dei servizi, delle professioni e dei servizi pubblici locali che gestiscono acqua, luce e gas che vanno ad incidere direttamente sul potere di acquisto dei salari e quindi del consumo per le alte tariffe che a volte devono mantenere dei veri carrozzoni clienterali dove oramai è un termine molto d'uso, i costi della politica sono rilevanti perché i costi della politica non è soltanto pagare l'indennità al consigliere comunale, al parlamentare o al consigliere regionale, ma i costi della politica sono quelli anche indiretti dove per mantenere una serie di strutture che favoriscono i partiti dominanti è chiaro che si fa sulla pelle del cittadino nel caso specifico del consumatore. Quindi questo è il problema dello sviluppo e lì non si trovano d'accordo perché i servizi pubblici locali, Tremonti vorrebbe liberalizzarli e la Lega no perché da quando si è insediato nei sistemi di potere a livello di enti locali, di comuni e di province loro hanno partecipazione in tutte le società con i loro amministratori e non vogliono perdere il poltrone, quindi non vogliono vendere. Ora, tornando al discorso quindi del rendiconto, il rendiconto determina con l'accertamento dei residui attivi e passivi del 2010 la possibilità di approvare anche un altro provvedimento che marcia parallelamente che è il cosiddetto assestamento, cioè a metà anno, a giugno la legge di contabilità prevede che le previsioni, il bilancio di previsione che si è fatto entro il 31 dicembre, si è stato approvato entro il 31 dicembre 2010 per il 2011 viene verificato se le previsioni sono ancora attendibili altrimenti si fanno le manovre correttive come ci sono state tra luglio e agosto. Quindi noi siamo in ritardo con l'approccio di questi documenti? No, noi avremmo dovuto approvare a luglio perché vengono approvati a giugno quindi a luglio si presume, però la prassi vuole che a settembre vengano approvati. Però attenzione, questi assestamenti di somme servono proprio per finanziare lo decreto sviluppo, che se ci sono degli incentivi pubblici pochi ma da dare devono essere presi nel bilancio 2011 e prenderli nel bilancio 2011 significa che devi avere il disegno di legge sull'assestamento approvato e tu non lo puoi approvare se non hai approvato il rendiconto. Diciamo per spostarli, usi do il dire l'assestamento approvato? No, perché nell'assestamento, nel bilancio accomodato, assestato a metà anno prevede l'utilizzo dei residui attivi e passivi accertati con il rendiconto dell'anno precedente ed è una mole enorme di residui perché abbiamo oltre 100 miliardi di residui, cioè di soldi che abbiamo chiesto ai cittadini e non abbiamo speso, li abbiamo impegnati ma non erogati. Della parte può essere anche una odizia positiva perché non potrebbero servire per il futuro, no? No, 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 è negativo. Guardi, quando ci sono dei residui o degli avanzi di amministrazione in una società privata è un vantaggio perché avevano previsto un certo conto e se ne trovano di vantaggio e quindi è un bravo manager, bravo amministratore che ha gestito quel bilancio, ma nel pubblico è al contrario perché nel pubblico significa che io ho chiesto al cittadino di più di quello che io poi spendo, quindi non rimetto nel circuito quello che gli ho chiesto perché il cittadino avrebbe potuto farsi, che devo dire, una vacanza sulle Dolomiti, ci ha dovuto rinunciare perché lo Stato ha aumentato il prelievo fiscale e poi se questo prelievo non lo spende, non lo rimette nel circuito, non gli torna nemmeno indirettamente al cittadino e rimangono lì. Una parte sono bloccati per gli enti locali a causa del cosiddetto fatto di stabilità interno e molte ditte stanno per fallire perché gli enti pubblici non pagano in quanto il recinto è stretto, ma quelli dello Stato, voi pensate che lo Stato non paga per circa 60-70 miliardi i fornitori di beni e servizi proprio perché non spende, non ha una capacità di spesa, un'efficienza tale che i soldi che ha previsto da spendere non riesce poi materialmente a spendere. Questa è la gravità di tutto il sistema che si riverbera anche sulla capacità di sviluppo e di ricchezza del Paese e chiudo qui sperando di aver spiegato tutto. La parte politica non me l'hai chiesta e ci arriveremo. molto tempo. Approfitto, scusa Franco, per presentare il nostro secondo ospite che è proprio congegnare la presenza dell'onorevole Ciccanti che è Dario Del Buono, uno dei maggiori esperti a livello nazionale di artigianato e commercio. È stato presente in molte delle organizzazioni, in confartigianato, in confcommercio. Si è occupato dal settore alimentare fino ai settori bar, quindi dei pubblici esercizi, fino al settore dell'artigianato. E quando parliamo di artigianato, parliamo di artigianato che comunque arriva fino a 40 addetti per azienda. Quindi su questo Del Buono, lei che quadro ha? Soprattutto che cosa sta raccogliendo in mezzo alle categorie che comunque conosce e frequenta costantemente? Beh, la situazione non dico che è drammatica, ma ci stiamo avvicinando a grandi passi. Sì, uno dei problemi fondamentali è anche che chi lavora con il pubblico purtroppo non viene pagato, non viene pagato in tempo, viene pagato in ritardo, deve ricorrere ai finanziamenti bancari che poi hanno anche degli oneri sempre più pesanti. Oltretutto siamo in una situazione dove il nostro sistema bancario è sotto la rete di ingrandimento di tutti i mercati internazionali. Quindi già era difficile in Italia accedere al credito e per questo c'è anche tanto discorso d'usura in questo nostro paese. Ma da quando è partito il discorso della comunità europea per sistemare, diciamo così, delle regole per tutti, il nostro sistema si è ancora di più irrigidito. E per fortuna che ci sono degli strumenti come i consorzi civili, le cooperative di garanzia, che però hanno comunque la possibilità di far accedere alle piccole e medie imprese a un credito importante sempre se sono finanziate a loro volta. E vengono tutti questi finanziamenti in gran parte dagli enti locali e dalle Camere di Commercio. Regioni. e sì, regioni, province e via discorrendo. È chiaro che nel momento che c'è un ritirato da tutte le istituzioni, anche lì si comincia un po' a zoppicare. Poi purtroppo diciamo che oggi attualmente su 100 pratiche che vengono presentate da un consorzio Vidi, le banche ne approvano, e già il consorzio Vidi fa una schrematura, le banche ne approvano 40. e questo vi dà l'idea di… però una cosa, anche dal discorso che è partito e per cui l'Onorevole ci ha spiegato tutti i retroscena all'interno del bilancio, però io adesso vi metto nei panni di chi sta a guardare questo momento particolare e che vede un discorso internazionale e faccio un paragone a un'azienda di famiglia dove c'è un capo famiglia che è anche capo dell'azienda e due fratelli che vogliono condurre l'azienda in maniera una diversa dall'altra. Chiaramente uno in quel momento la sta portando avanti, l'altro ma se facesse la fronda e cominciasse a parlare male di quello che fa l'azienda? Penso che l'azienda nei confronti del mercato a cui si rivolge andrebbe a picco. Adesso Richini, lei ha detto quando ha fatto il quadro della situazione per quello che è successo, che la stampa ha dato un'immagine, da quello che ho capito nella mia piccola ignoranza, perché poi è un discorso, magari ci sarà chissà che cosa di politico dietro, ma è come se una cosa che forse era stata presa pure sotto gamba dalla maggioranza e quindi qualcuno se n'era andato quando non se ne doveva andare, è stato fatto un giochetto molto abile dalla minoranza e da qualcuno, poi ho letto pure qualche nome del PD che ha giostrato su assenti e presenti e quindi è stato fatto una specie di sgambetto, ma quello che mi stupisce non è questo, perché poi ci sono giochi che si fanno anche in aula, penso, si fanno nelle assemblee di categoria, penso si fanno pure in Parlamento. Quello che mi stupisce è come la stampa ha riportato tutto questo, in fondo la stampa è la nostra vetrina commerciale anche nel mondo, del paese Italia e se continuiamo a sparare in questo modo, a buttare giù tutto, io penso che se l'azienda sta in crisi, anche quelli che non la pensano uguale su come si conduce, dovrebbero comunque portare in un momento di crisi grave come questa, avanti un discorso non dico comune, ma se non altro che abbia delle linee, delle interventi e che non faccia quello che purtroppo tutti i giorni vediamo sui giornali. Adesso è questo dal punto di vista delle imprese che subiscono poi oltretutto un depreciamento dei loro prodotti, un depreciamento di perdiamo clientela, perdiamo mercato.